Buongiorno ragazzi e buon venerdì, giornata di estrazione extra. Ieri sera sono successe un po' di cose, vediamo un po' quanti scontrini mi arrivano oggi ragazzi. Io lo sapete che dopo estrazione, purtroppo a volte spesso non riesco a fare una live, una breve live. Spesso lo faccio, spesso no, purtroppo no. Ragazzi, andiamo per ordine. Lotto mio! Grande esordio! Secondo colpo di gioco, prima previsione dopo mesi e mesi che non usciva lotto mio. Ho dato una previsione bellissima a Milano-Napoli con un capogioco pazzesco. Ieri sera dall'otto mio, dalla mia previsione pubblicata, centrata lambata secca semplice, non solo semplice, e in prima posizione determinata. Napoli, 56, spaccato in prima posizione determinata dall'otto mio. Quindi come l'otto mio, secondo colpo di gioco, ambata determinata, centrata 56 a Napoli, direi risultato eccellente per una grande ripartenza da parte mia. Quindi l'otto mio, mi raccomando, mandatemi, chi ha comprato l'otto mio, chi aveva la previsione di l'otto mio, mandatemi le foto del 56 in posizione di Napoli, ok? Parentesi, quella previsione lì, essendo uscita lambata in posizione, c'è ancora oggi e domani, io la giocherei la previsione completa, ok? Vedete voi, lambata ha pagato in posizione, però potrebbe tra stasera e domani, tra il terzo e il quarto colpo, pagare magari l'ambo in terzina. Quindi la previsione di l'otto mio, che ha pagato ieri al secondo colpo lambata determinata 56 a Napoli, oggi e domani io la farei giocare, ok? Mi raccomando, lì c'è due ambi e poi alla fine una terzina, mi raccomando. Detto ciò, 10 e l'otto serale, era un bel po' che non facevo il 10 e l'otto serale, e vi piace tantissimo, vedi? Tante volte uno dice, non gioco più all'otto, gioco a 10 e l'otto serale. Spaccato ieri sera, mi sembra che sia un secondo colpo di gioco. 10 e l'otto serale, spaccato in pieno, come premeditavo io che usciva il 12 a Pari. Poi parliamo del 12. Quindi, 10 e l'otto serale centrato, 12, 39, 76, più oro 12, tre numeri su quattro con l'oro. Questo 90 malefico, maledetta a me quando mette il 90, è un numero di merda. Il 90 è un numero di merda. Tra l'altro è un numero come tutti gli altri 89 numeri. Io ho sbagliato a mettere il 90 nella combinazione, perché se no qua c'entravamo ieri sera, tre numeri su tre con l'oro. Quel 90 ci ha rovinato ragazzi, perché il 90 è l'attitante, il 90 lo tengono manipolato. Vabbè, 10 e l'otto serale centrato ancora il 3 su 4, ancora, vabbè. Centrato il 3 su 4, tre numeri su quattro con l'oro. Una bella vincitina, eh? Mi raccomando, quel 10 e l'otto serale non si gioca più. Non so se lo farò uno nuovo. Se lo farò, ve lo dirò. Quindi, stop il 10 e l'otto serale. Io vi avevo detto che il 12, ieri ho fatto una live, un video, dove vi ho detto, ambata esplosiva. Andate a vedere il video, andate. Andate, che il Mimo Nazionale non dice cazzate, come con qualche ciarlatano degli 8-9-9. Ho detto che è l'ambata, mai garantisco io. Attenzione, chi garantisce è un grandissimo. 12, infatti, io lo premeditavo che usciva a Bari, perché era un'ambata esplosiva, e ho detto, potrebbe essere anche il numero doppio oro, detto io, ma comunque anche oro. Ed è uscito un numero oro al 10 e l'otto serale. Centrato il 12, peccato, fuori posizione, perché noi davamo, cioè, io davo seconda e terza posizione, è uscito in prima. Comunque, come premeditavo io, il 12 sarebbe uscito a Bari e il 12 sarebbe stato l'oro o doppio oro nella combinazione di celotto serale. Mi raccomando, mandatevi le foto degli scontrini vingenti. Ultima cosa, la penultima del mese si è lasciata desiderare. Ha dato un bellissimo ambetto secco. Chi ha giocato la penultima del mese? Ok? Tra l'altro, stasera, dopo le stazioni di stasera, è la penultima del mese, si fa il calcolo nuovo. Vi ricordo che io poi non metterò più le previsioni della penultima della sesta del mese. Farò il video del calcolo, poi chi vuole la gioca. Ok? Quindi, ieri sera cos'è successo? Su Venezia è uscito 43-67 in ambetto, vuol dire che è uscito 42-67. Ambetto secco spaccato a Venezia, dalla penultima del mese. Io direi che come risultati ieri sera è andata non bene, benissimo. Naturalmente il 12 è inutile chiedermi, ma si giocheranno ancora gli ambi col 12? No. Il 12 è una lambata esplosiva, è uscita, non si è accoppiata perché sotto sono usciti degli abbinamenti, fuori ruota, ma lasciamo stare così. Basta. Gli celotto serale non so se lo farò nuovo. In questa live vi voglio ricordare, Lambo con Gabriele, l'Automatica Channel, si continua a Venezia. Ok? Quello 87 in prima e seconda, e quel 90 in prima e seconda, e poi Ambo Ambetto 87 e 90, si continua. Ma si continua anche la quartina che ieri in live vi ho dato, di unificare a Venezia, visto che io ho 8 e 90, unificare l'87 con il 90 con l'8 e il 17 che ancora non sta sortendo. Ok ragazzi? Mi raccomando Venezia, mi raccomando quella bella quartina. Detto ciò ragazzi, io adesso vi metterei subito le previsioni aggiornate per l'estrazione di domani, scusate di stasera, ma vi voglio dire una cosa, io ho tolto Lambo 1249 dalla bacheca, non troverete più Lambo 1249, perché il 12 era il capogioco. Quindi Bianca il 49 sparisce, ci sarà un Lambo nuovo avari, aprite bene le orecchie ragazzi, ma aprite bene le orecchie, perché negli aggiornamenti non c'è scritto, ma ve lo dico a voce io, troverete Lambo, che adesso vi dico, ma vi do l'ambata di quei due numeri. Attenzione. Nuovo Ambo di Bari, che troverete in bacheca, è 24-36, ripeto, 24-36. Qui, a voce, vi dico che a Bari, ruota unica, il 24, è un'ambata esplosiva in prima e quarta posizione. Ripeto, a Bari, il nuovo Ambo, 24-36, da giocare Ambo e Ambetto, I-24, vi dico a voce, che è un'ambata esplosiva in prima e quarta posizione. Mi raccomando, ho detto tutto, mi sembra di non aver dimenticato niente, vi ho detto che l'Ottomio ha pagato al secondo colpo l'ambata determinata, 56 a Napoli, in prima posizione. Vi ho detto che con Gabriele l'Ambbo si continua tranquillamente, vediamo cosa succede tra oggi e domani e poi decideremo, perché è sempre un Ambo una ruota unica, ok? Ragazzi, io ho detto tutto, adesso vi metto subito gli aggiornamenti per l'estrazione di stasera, venerdì 30 agosto 2024. Un bacio a tutti ragazzi, ciao! Ciao! Ciao!